I 26 parlamentari sospesi del Movimento 5 Stelle, quelli coinvolti nella bagarre in aula dopo l'approvazione del decreto IMU Banca Italia e dopo la tagliola del Presidente della Camera Bolgrini, arrivano a Napoli con il non ci fermate tour. Spiegheranno ai partenopei in strada le loro ragioni, come afferma il Vice Presidente della Camera Luigi Di Maglio. Abbiamo dei parlamentari che sono sospesi per aver cercato di fermare un decreto legge che stanziava 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, alcuni sono sospesi per 28 giorni, stanno passando il loro tempo a raccontare ai cittadini quello che sta accadendo nel palazzo. Parleranno con i cittadini napoletani, risponderanno alle domande, sarà una gora pubblica. Il parlamentare Pentastellato, in visita alla redazione dell'agenzia videogiornalistica Si Comunicazione, torna sul tema del lavoro al Sud. Prima di tutto magari sarebbe indicato avere un governo con qualcuno del Sud che può contare all'interno delle istituzioni, invece abbiamo un governo a trazione settentrionale. Io credo che per il Sud abbiamo una grandissima opportunità che sono le smart city. L'Europa sta per stanziare qualcosa come 11 miliardi di euro per progetti di conversione dei servizi pubblici. In Campania abbiamo forse tra i peggiori servizi pubblici d'Italia. La grande occasione è convertirli, tecnologizzarli e dare lavoro alle piccole e medie imprese di giovani che in questo momento stanno lavorando a grafica 3D, application e così via. Anche i media sono la grande sfida del futuro, si sta trasformando la comunicazione. E proprio con questi fondi, se saremo bravi con una classe politica nuova a governo della Campania, riusciremo ad attrarre fondi europei per riuscire a far partire di nuovo il lavoro. E' anche l'occasione per lanciare il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali. Abbiamo sotto gli occhi di tutti i cittadini campani quali sono i risultati di un governo di centrosinistra, disastroso, che ci ha portato nella terra dei fuochi e un governo di centrodestra che pochi giorni fa, visto indagato il braccio destro di Caldoro, ha un consiglio regionale indagato per rimborsi ai gruppi regionali. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti quale sia il risultato di questa classe politica. C'è una nuova opportunità, quella di portare i cittadini comuni nelle istituzioni, come lo sono io, come lo sono tante persone che si proporranno.